Per me la risposta è chiara, io sono qua come Presidente del Parlamento europeo, volevo venire al sud d'Italia per fare un appello che i cittadini italiani partecipano nelle elezioni di giugno, un messaggio per me pro-europeista che vuole che noi per i cinque anni che vengano cegliamo la direzione dell'Europa. Per me quando dico questo allora trovare delle soluzioni sull'immigrazione, sull'ambiente, sulla politica digitale, tutto questo io lavoro molto bene con tutti i deputati italiani da cui, da quale gruppo politico che vengono loro. Per me non era qualcosa che penso che è qualcosa che devo dire in più. Come ha detto la Commissione europea questo non è qualcosa che cade nella competenza europea perché è un accordo tra un paese membro e un paese terzo. La cosa che voglio dire è che sull'immigrazione noi non parliamo con noi stessi solamente ma anche parliamo con dei paesi terzi, paesi vicini che possiamo parlare sull'investimento, sullo sviluppo ma anche sulla discussione degli influssi e dell'aiuto che noi possiamo fare insieme per evitare più perdita di vita nel mare. Io vengo da un'isola pieno centro del Mediterraneo e dieci anni fa il Papa ha detto che il mare Mediterraneo è il più grande gemiterio nel mondo e se noi possiamo fare anche dal sud, e per questo io saluto degli sforzi che sta facendo il governo italiano per trovare delle soluzioni. Delle soluzioni noi abbiamo come leggi, abbiamo cinque proposte legislative che questa settimana a Bruxelles spero che riusciremo a trovare delle maggioranze. Io sono ottimista con cautela, che se posso dire così, ma infatti se possiamo anche trovare la possibilità di avere una politica con i nostri vicini, una politica di ritorno che è più efficace, una politica di solidarietà, una politica di protezione, allora penso che possiamo dire ai nostri cittadini quando andiamo al voto giugno prossimo che abbiamo trovato delle soluzioni legislative anche politiche. Sì, allora su questo lo so che sette paesi europei, incluso l'Italia, hanno scritto alla Commissione per evitare che questa legge che viene rinforzata adesso non trova la possibilità che delle linee marittime evitano delle porte europee del sud, che sono importantissime, non solamente per il commercio del sud, ma anche per i consumatori. Questo è qualcosa che si sta, penso, discutendo e per noi, anche io che vengo dal sud, per me mi preoccupa e penso che quando, forse anche una lezione per tutti noi, quando facciamo delle leggi, le scriviamo, le discutiamo e le votiamo, non dimentichiamo tutte le parti dell'Unione Europea, nel nord, nell'ovest, nell'est e nel sud.